Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al sequestro di persone avvenuto ieri a Gela, vittima dell'episodio e una donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo che da diverso tempo non si rassegnava alla separazione da sua moglie e con l'aiuto del figlio della coppia ha preso di forza l'ex consorte trascinandola in macchina contro la sua volontà dinanzi all'altra figlia minore. Sono tre le persone arrestate. Tempestivo ed immediato intervento ieri dai carabinieri del reparto territoriale di Gela agli ordini del Maggiore Antonio Delosa. i militari dell'arma hanno messo fine ad un sequestro di persona operato da tre gelesi di 57, 44 e 20 anni, vittima dell'episodio e una donna. Secondo quanto ricostruito, un uomo che da diverso tempo non si rassegnava alla separazione da sua moglie, con l'aiuto del figlio della coppia ha preso di forza l'ex consorte trascinandola in macchina contro la sua volontà davanti all'altra figlia minore, portandola poi in un'area appartata alla periferia di Gela. Alla guida dell'auto c'era un parente dell'uomo che ha concorso nell'areato, trasportando la donna mentre la stessa cercava di divincolarsi. Il gravissimo episodio ha avuto inizio alla rotonda S di Macchitella. È stata una telefonata giunta al numero di emergenza 112 a fare scattare l'allarme. I militari della sezione radiomobile dei carabinieri hanno subito attivato le ricerche e dopo aver intercettato l'auto si sono messi all'inseguimento dei tre fuggitivi. Sono stati bloccati in contrada a Montelungo. La donna è stata liberata in stato di shock. La vittima fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Il marito è stato immediatamente arrestato con l'accusa di sequestro di persona ed atti persecutori. Il figlio e l'altro parente dell'uomo sono stati arrestati per il concorso nel sequestro di persona. Ancora una macchina in fiamme a gela. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Formia nel quartiere Caposoprano. Il fuoco ha distrutto la Fiat Stilo di un operaio 35enne. Indaga la polizia. E adesso occupiamoci del bilancio consuntivo 2016 e della direzione investigativa antimafia di Caltanissetta. 180 imprese monitorate, 233 soggetti controllati e 82 mezzi ispezionati nel settore degli appalti pubblici. Numerosi sequestri e confische nell'ambito delle misure di prevenzione. È proficua ed incisiva l'azione di contrasto ai patrimoni mafiosi condotta anche nel 2016 dal centro operativo della direzione investigativa antimafia di Caltanissetta con una progressiva e definitiva assegnazione alle istituzioni dello Stato del patrimonio tolto alla mafia. La DIA ha messo in campo le migliori risorse professionali al fine di depotenziare le consorterie criminali attraverso l'individuazione delle fonti finanziarie illegite e dei patrimoni acquisiti dalle attività criminali attraverso il contrasto al riciclaggio ed il monitoraggio dei rapporti bancari. Il capo Centro DIA, il colonnello Giuseppe Pisano. Contrasto alla criminalità che si è spostato o si va spostando sempre più dal piano strettamente militare al piano patrimoniale. Come dimostrano ormai i dati in costante decremento di fatti cruenti, la mafia spara sempre meno e punta sempre più sulla corruzione, sul riciclaggio, sulla infiltrazione, sulla ricerca di capitale sociale, cioè di legami con soggetti esterni all'organizzazione che appartengono al mondo imprenditoriale, istituzionale per garantirsi comunque un serbatoio di risorse relazionali dentro il quale fare affari e continuare a produrre denaro. Per questo l'attività di contrasto si basa ormai sempre più sulle attività di prevenzione, prevenzione che vanno ovviamente dal controllo degli appalti alle attività antiriciclaggio e contro l'utilizzo del sistema finanziario, delle banche, delle finanziarie per scopi di riciclaggio, fino ovviamente all'applicazione delle misure di prevenzione antiriclaggio che si sono riparati uno strumento forse più importante, più pregnante per lo spossessamento alle organizzazioni criminali dei beni illicitamente accumulati e la loro restituzione alla collettività. Fari accesi anche sul territorio gelese, obiettivo è quello di privare le consorterie mafiose delle necessarie ed insostituibili risorse economico-finanziarie. Il territorio gelese è uno dei territori più attenzionati perché è il territorio dove ancora purtroppo il ricorso a forme di violenza per seppur spicciola come può essere l'incendio della macchina piuttosto che il danneggiamento o la pistolettata contro una saracinesca sono ancora molto più presenti che in altre parti del territorio delle due province di cui si occupa il centrovia di Taltanissetta. Quindi Gela è senz'altro un territorio oggetto di grande attenzione. Va anche detto che probabilmente questi episodi traggono la loro origine anche nell'abbassarsi della foglia economica che induce al reato perché questo è un fenomeno che stiamo osservando post-crisi. Prima si estorcevano i 500 Euro, ora si estorcono anche i 100 Euro. Allora ecco che una macchina andata a fuoco diventa comunque un deterrente importante per ottenere piccole somme. Gli agenti del commissariato di Niscemi hanno denunciato un giovane miscemese di 30 anni per detenzione ai fini di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione i poliziotti diretti dal commissario Andrea Monaco hanno trovato occultate sulla davanzale della finestra della camera da letto dell'abitazione del ragazzo diverse stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 7,80 grammi per il trentenne e quindi scattata la segnalazione alla procura. Cambiamo argomento. La deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, ha inviato una lettera al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale chiedendo di esprimere parere formale in merito al piano di caratterizzazione ambientale propedeutico al progetto di dragaggio al porto rifugio di Gela. Nella missiva, che fa eco alla richiesta degli operatori portuali in protesta da anni, la Cancelleri ha denunciato una notevole diminuzione del pescato aggravato dal maltempo di questi ultimi giorni. La situazione è oramai al limite, scrive, insostenibile per chi vive solo di pesca. Un paradosso in una città di mare non poter svolgere regolarmente le attività portuali anche le più semplici ridotte oramai al lumicino con un grave danno per il settore ittico e portuale in primo luogo quindi all'economia che lo sostiene. Il parere necessario venga redatto al più presto esorta in conclusione la deputata Grillina così da consentire un aggiornamento delle procedure amministrative ed una velocizzazione verso la risoluzione del problema. Rivendicano il loro posto di lavoro, sono i 52 guardiafuochi dell'impresa Archimede protestano dinanzi alla Capitaneria di Porto di Gela dove essere venuti a conoscenza che il loro lavoro sarà svolto da un'impresa di Palermo che svolge le loro stesse mansioni di sicurezza sulle imbarcazioni. Siamo qui per ribadire un po' tutta la situazione quella che c'è senza nemmeno avvisarci, senza nemmeno dire niente che il lavoro veniva preso da questa ditta speriamo che la prefettura ci manda a chiamare subito così si chiarirà un po' tutta questa faccenda. Il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Giuseppe Lancio, ha assicurato un suo intervento. Oggi abbiamo avuto un incontro con il comandante della Capitaneria di Porto il comandante Carosia che ci ha spiegato un po' le ragioni di questa tegola. Abbiamo chiesto, ho parlato con i lavoratori perché è urgente che si venga chiesto un tavolo immediatamente in prefettura per chiarire le ragioni di questa difficoltà che stanno incontrando questi lavoratori. Quindi penso che incontrando la raffineria, incontrando la ditta che si occupa del servizio e incontrando la Capitaneria di Porto, questo problema penso che nel breve giro di tempo debba essere risolto. Questa mattina al fianco dei lavoratori c'era anche il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta. Ritengo che non sia possibile e non è consentito che in una città come Gela che si sta soffrendo tanto, che è stata decretata come area di crisi complessa, vengono delle ditte di fuori, parliamo in questo caso del palermitano, e vengono buttate in mezzo ad una strada circa 50 lavoratori. Speriamo che più presto questo problema è affrontato in prefettura, attraverso un tavolo tecnico perché non sappiamo più cosa dire ai nostri concittadini. Le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva. La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati, subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata, con un'insee inferiore o uguale a 3.000 euro. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza, potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo, aperto al pubblico, lo ricordiamo, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Cambiamo ancora una volta argomento e adesso occupiamoci dell'Open Day che si è tenuto oggi nei locali della Scuola San Francesco e Paolo Emiliani, giudici di Gela. Porta aperte oggi all'Istituto Scolastico Paolo Emiliani Giudici e nel plesso di Piazza Salandra dell'Istituto Comprensivo San Francesco retto da Giovanna Palazzolo nell'ambito dell'Open Day. Una giornata di festa per docenti, alunni e genitori, un coinvolgimento a 360 gradi. È stata l'occasione per far conoscere i nuovi indirizzi presenti nell'Istituto, i profili e gli sbocchi professionali, le strutture, i laboratori e le varie attività formativa. Per i ragazzi che sono tutti orgogliosi di far vedere i frutti dei laboratori perché noi di pomeriggio, aprendoci al territorio, abbiamo istituito dei laboratori a cui possono partecipare tutti i ragazzi e tutti i bambini della zona circostante. Durante la giornata di oggi i piccoli alunni hanno partecipato alle lezioni delle classi e alle esperienze didattiche. L'Istituto Comprensivo permette ai bambini e ai ragazzi di crescere con un unico progetto formativo che li accompagna dai due anni e mezzo ai 14. Abbiamo tanti bei progetti, noi abbiamo due corsi a indirizzo musicale che sono il nostro fiore all'occhiello, in più siamo in forte crescita riguardo all'infanzia e alla primaria. Anche i cittadini gelesi con un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a 8.107,5 euro possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione e delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. Il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro grazie ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Resta invariato, a non oltre 20.000 euro di ISEE, il requisito di accesso per le famiglie numerose. Per presentare domanda di agevolazione per il bonus energia è possibile utilizzare l'ISEE standard o ordinario e l'ISEE corrente, valido, lo ricordiamo, due mesi, nel caso in cui siano intervenute variazioni significative nella situazione reddituale. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio presso la sede operativa in via Ossidiana 23. C'è anche un recapito telefonico 0 933 9383 12. Pronto soccorso in pieno caos a causa dell'esubero dei pazienti giunti anche dalle province di Enna e Agrigento. Una situazione di emergenza che ha visto lavorare a pieno ritmo tre medici e due infermieri per cercare di rispondere alle esigenze dei pazienti. Oltre 35 malati che questa notte si sono rivolti al pronto soccorso Nisseno. Di questi, 17 attendono di essere ricoverati nei reparti nonostante le corsie siano al collasso. Potenziato anche l'obbio, ovvero il reparto di osservazione breve e intensiva di agente al pronto soccorso, dove sono stati aggiunti altri tre posti letto portando la struttura a 12. Alcuni pazienti attendono al pronto soccorso da giorni come testimoniato ai nostri microfoni. Io sono già accesa da domenica. Attento questo letto, purtroppo attualmente mi dicono che non c'è ne posti. Sono nel panico più assoluto, c'è l'inverno, perché ognuno di noi vogliamo essere curati al nostro modo. Purtroppo l'Italia è fatta così. Quando c'è una persona che per lui è il primario, il primario deve essere curato il parente. Una situazione di emergenza che il manager dell'ASP, Carmelo Iacono, affiancato dai vertici sanitari, sta cercando di fronteggiare anche grazie all'aiuto della Croce Rossa. È una criticità di tipo stagionale che non riguarda soltanto il Sant'Elia, riguarda tutti i pronto soccorsi d'Italia. Ieri abbiamo visto che c'erano dei problemi per sbarellare i pazienti, tanto era l'afflusso, perché ieri sono arrivate circa 115 pazienti in pronto soccorso e quindi dovevamo liberare le barelle. In una criticità di questo tipo, noi abbiamo chiesto una mano d'aiuto alla Croce Rossa italiana e la Croce Rossa italiana ci ha fornito delle barelle in modo da poter liberare le barelle delle ambulanze che sono state restituite alla loro attività normale di emergenza sul territorio e quindi ci siamo adattati a quella che era una situazione contingente. Ovviamente con un afflusso del genere, qualsiasi struttura va in tilt, il problema è cercare di farla funzionare nel modo possibile. Certamente se a Monte ci fosse un filtro maggiore, probabilmente non avremmo tutto questo afflusso. Però c'è da dire che io stamattina sono venuto al pronto soccorso, ho preso dei dati statistici, certamente trovare pazienti che vengono da Canicattì, che vengono da Piazza Armerina, che vengono da zone anche lontane a quello che è il bacino d'utenza del nostro pronto soccorso è qualcosa che da un punto di vista ci può gratificare, perché il nostro ospedale viene riconosciuto come ospedale di riferimento, ma dal punto di vista pratico ci intasa in modo importante. E tra le altre cose noi stiamo cercando di fare del nostro meglio, però non possiamo pagare allo scotto. Ultimo appuntamento dell'83 stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 29 gennaio alle 19, nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano, si terrà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica Violino e Simone Campanella al pianoforte. Fredda Scuola compila il nostro questionario e segnalaci il tuo problema. Questa è l'iniziativa lanciata dalla Rete degli Studenti Medi. Un problema quello delle aule fredde che ha visto attivarsi l'Associazione degli Studenti su tutto il territorio nazionale per cercare di assicurare la temperatura minima nelle strutture scolastiche di 18 gradi, previsti tra l'altro dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993. A mantenere in gestione e ad occuparsi del potenziamento delle strutture scolastiche di secondo grado sono ancora le ex province, in questo momento prive delle risorse economiche per risolvere direttamente il problema, che in questo momento in città è stato superato ma che potrebbe ripresentarsi. Da qui la decisione di aprire il forum di segnalazione. All'inizio dell'anno scolastico sembrava si trattasse di un caso emarginato, un caso che aspettasse soltanto alla provincia di Caltanissetta. A partire dal nuovo anno questo problema si è riscontrato anche in altre province, fra cui quella del Palermitano e del Siracusano. Sostanzialmente sì, il problema fondamentale è stato dato da un po' questo conflitto di interessi fra quello che è chiarito nella Carta Costituzionale a proposito della natura delle province e quello che invece riguarda gli ultimi provvedimenti che sono stati presi a proposito dei liberi consorsi comunali. Sostanzialmente la mancanza di fondi di queste istituzioni provinciali ha portato a una mancanza nell'accensione dei riscaldamenti, che è un problema molto sentito ai ragazzi per quella che è la natura dei servizi e anche il benessere in un ambiente in cui si deve ricevere un'istruzione. Noi abbiamo come rete gli studenti Caltanissetta, insieme ai rappresentanti istituto delle varie scuole, ci siamo mobilitati sinergicamente e abbiamo dato vita a questa manifestazione che ci ha portato poi in realtà a avere un dialogo con la provincia e chiedere maggiori spiegazioni. Diciamo che il punto di arrivo è stato il fatto che purtroppo, comunque come via di mezzo, le scuole nel frattempo erano legittimate a poter stanziare dei fondi privatamente per una ditta che accendesse in proprio i riscaldamenti. Una notizia di sport, calcio è destino che la partita Sersale-Gela in questo mese di gennaio non debba giocarsi. Dopo il rinvio di domenica 15 gennaio scorso per le abbondanti levicate che hanno interessato il comune catanzarese, anche domani la gara di recupero non si giocherà. È stata rinviata a mercoledì 1 febbraio. Le condizioni meteo infatti non permettono la disputa della partita. Il sindaco di Sersale ha emesso una ordinanza con cui ha sospeso ogni attività sportiva. Il nubifraggio sta flagellando la Calabria e le condizioni climatiche sono difficili. Il Gela giocherà domenica prossima a Santa Maria Capovetere in Campania contro il Gladiator. La pagina del cinema, all'antitodo di Macchitella Gela, oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2. Con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi. Vi ricordo che i servizi e notizie potete seguirli attraverso il nostro sito online all'indirizzo tg10.it. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.